Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Giorno della memoria Fano ha convocato un consiglio comunale straordinario nella sala verdi del teatro tra le novità anche iniziative rivolte agli alunni delle scuole primarie secondarie di primo grado Anziano morto investito da un furgone ad Ancona la procura apre un fascicolo per omicidio colposo disposto all'autopsia sul corpo dell'uomo Sta meglio ma rimane in prognosi riservata 70 anni ferito ieri nello schianto tra due auto sulla statale adriatica Metauriglia Emergenza smog a Fano domenica primo blocco del traffico nel centro città per ridurre le polveri sottili di vieto esteso a tutti i veicoli Potature sbagliate strigliata dalla regione al comune di Fano che deve provvedere a incaricare un professionista, aset, replica, accuse infondate e tutto in regola Inizia il viaggio di Fano TV alla scoperta dei giganti di carta pesta Ecco i nuovi carri della Carnevale che sfieranno per tre domeniche lungo Via Le Gramsci Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione del nostro telegiornale telegiornale che questa sera apriamo con il giorno della memoria che si celebra il 27 di gennaio per ricordare le vittime dell'olocausto e della Shoah Anche quest'anno per l'occasione il comune di Fano ha convocato una seduta straordinaria del consiglio comunale e sempre maggiore è il coinvolgimento degli studenti Lidon Balestra Ricordare attraverso il giorno della memoria la tragedia dell'olocausto diventa ai giorni nostri ancora più necessario ed importante Più passa il tempo e sempre meno sono i sopravvissuti, i campi di sterminio e dalle deportazioni in vita che possono portare la loro testimonianza diretta alle giovani generazioni I focolai sempre più accesi di semitismo e di intolleranza razziale in ogni parte del mondo impongono di non abbassare mai la guardia di non tacere e di condannare ogni minimo segnale di strisciante provocazione Per la giornata del ricordo il comune di Fano ha voluto ampliare quest'anno la portata e l'estensione di questo momento di riflessione e condivisione Oltre che con il consiglio comunale monotematico di lunedì 27 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna anche attraverso una serie di iniziative che arrivano fino a febbraio e che per la prima volta oltre agli studenti delle scuole superiori coinvolge anche i bambini di scuole medie ed elementari Una giornata che ovviamente recupera un appuntamento in qualche modo tradizionale che ci piace riproporre anche quest'anno cioè l'incontro con uno storico in questo caso il dottor Fresti dell'Università di Urbino del consiglio comunale e degli studenti delle scuole superiori della nostra città la Sala Verdi alle ore 9 del 27 di gennaio e poi però abbiamo immaginato anche un'altra serie di appuntamenti aperti alla città e quest'anno rivolti anche agli studenti delle scuole medie ed elementari Inizieremo proprio lunedì 27 gennaio alle ore 17 alla Mediateca con un secondo appuntamento col dottor Fresti che in questo caso proporrà una conferenza sul tema dell'eugenetica dell'eutanasia durante il nazionalsocialismo e poi avremo due appuntamenti uno il 3 febbraio l'altro il 26 di febbraio che saranno rivolti specificatamente alle scuole medie e alle scuole elementari proprio perché abbiamo avvertito l'esigenza di uscire in qualche modo anche dalla ritualità e di mettere a disposizione non solo degli studenti delle scuole superiori ma tutti gli studenti della nostra città delle occasioni ovviamente adeguate dal punto di vista comunicativo e pedagogico che consentano loro di potersi confrontare con il tema della Shoah e con sicuramente alcune delle pagine più difficili e drammatiche della storia del Novecento oltre questo ci sarà un appuntamento che sarà lunedì 27 gennaio alle ore 11.30 la deposizione di una corona alla lapide che qui proprio all'ingresso del Comune di Fano ricorda una bellissima pagina di storia cittadina e cioè i 150 ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio nel 1945 che arrivarono nella nostra città e che per tre anni furono ospitati qui a Fano nel porto, nella Csarrà di Fano e nel porto di Fano costruirono poi la nave con cui molti di loro poi nel 1948 salparono alla volta del neonato Stato di Israele Per la morte dell'anziano investito alla rotatoria nei pressi della Galleria del Risorgimento a Dancona la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento il PM Paolo Gubinelli ha deciso di non procedere per omicidio stradale preferendo il reato ordinario fino a quando non saranno chiare le dinamiche dell'incidente avvenuto mercoledì pomeriggio dove ha perso la vita Gianni Volterra, 80 anni l'anziano era finito sotto le ruote di un furgone mentre si trovava sul lato che confina con la caserma dei Vigili del Fuoco e dove si trova la corsia preferenziale dei bus è stata disposta l'autopsia sul corpo di Volterra che servirà a chiarire le cause del decesso e soprattutto se ha avuto un malore prima di finire a terra il conducente del furgone è stato iscritto nel registro degli indagati rimane in prognosi riservata invece Alfio Annibali il settantenne è rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale verificato si intorno alle ore 8 a metà origlia di Fano l'anziano era stato trasportato dall'Iliambulanza al Torrette di Ancona dopo uno scontro frontale avvenuto tra la sua auto e quella di una donna una quarantenne fanese lungo la statale Adriatica Sud l'uomo che era a bordo di una Hyundai era stato sbalzato fuori dall'abitacolo per la violenza dell'urto ed era finito sull'asfalto dove era stato soccorso dal 118 il settantenne è comunque in fase di miglioramento ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti domenica prossima 26 gennaio la città di Fano ferma le auto infatti prevista la prima domenica ecologica programmata per ridurre l'inquinamento atmosferico sentiamo allora dalla comandante della polizia locale a Narita Montagna che vedete alle mie spalle quali sono le zone e le vie interessate il divieto di circolazione è previsto dalle ore 9 alle ore 19 ed è previsto sia all'ingresso quindi in entrata rispetto alla zona interdetta alla circolazione ma anche in uscita in uscita intendo soggetti che sono all'interno di quest'area e che vogliono appunto transitare verso l'esterno il blocco è totale il perimetro è sostanzialmente quello previsto per la chiusura del carnevale e quindi sicuramente la cittadinanza fanese è già informata di queste deviazioni del traffico perché sono tanti anni che è così leggermente ampliata la zona in cui è ampliata è quella venendo da Ponte Rosso per cui mentre durante il carnevale venendo da Ponte Rosso si arriva fino all'altezza di Via Piave la chiusura prevista per le domeniche ecologiche impone a chi arriva a Ponte Rosso e gira a destra verso centro città di prendere subito la prima via destra per poi rimettersi in Via Mameli-Gabrielli e raggiungere la zona ospedale è aperta e quindi transitabile tutta la zona di Via Mameli-Gabrielli-Veneto che per intenderci è la via che porta all'ospedale per raggiungere fino alla statale per chi viene da Ponte Metauro potrà percorrere tutta la statale fino a raggiungere la stazione ferroviaria qui la rotatoria che è prevista potrà solo proseguire diritto per andare poi verso zona mare è interdetto invece la svolta sinistra quindi per proseguire verso l'arco d'Augusto e direzione Pesaro per chi viene da Pesaro invece la viabilità è identica a quella prevista per Carnevale con deviazione su Via Morganti e quindi subito dopo il semaforo che porta al Lido per raggiungere poi la zona del cimitero oppure proseguire diritto verso l'interno l'interno insomma Rusciano, Cucurano e i quartieri interni l'amministrazione ha voluto fare un blocco totale della circolazione sia per motivi di inquinamento e quindi vietando il transito ai veicoli che appunto inquinano ma ha voluto vietare il transito poi a tutti i veicoli per motivi di sicurezza perché chiudendo il traffico alcuni sensi di marcia sono poi invertiti e ad evitare pericoli per la circolazione perché sappiamo bene che quando c'è una domenica ecologica molte più persone escono in strada, in bicicletta o a piedi ci sarà anche un maggior transito di utenti che il codice della strada definisce deboli a tutela proprio di queste fasce è previsto un blocco per tutti anche veicoli non inquinanti come quelli ad esempio a metano e questa sera dopo il telegiornale andrà in onda un approfondimento in studio nel quale la comandante Montagna e l'assessore Samuele Mascarin illustreranno nella dettaglio tutte le modifiche relative appunto a queste due domeniche ecologiche e rimaniamo sull'argomento perché oggi il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato un piano di interventi per contrastare i cambiamenti climatici i consiglieri pentastellati hanno infatti protocollato una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta Seri a istituire un gruppo di lavoro che possa predisporre un piano operativo con l'adozione di diversi interventi tra questi quelli inerenti all'efficientamento energetico e all'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici e dei parcheggi aprendo uno sportello Energia per aiutare cittadini e imprese a orientarsi tra le norme e le opportunità della riqualificazione energetica suggeriscono anche la promozione della mobilità sostenibile e la riforestazione urbana con circa 6.000 alberi e a dare la propria ricetta per ridurre le polveri sottili sono stati anche i consiglieri della Lega Fano Noi riteniamo che questo provvedimento come abbiamo detto sia un provvedimento autoritario, dannoso e inutile autoritario perché è stato imposto dalla Giunta senza alcuna consultazione delle categorie economiche e questo purtroppo avviene ormai troppo di frequente dannoso perché va a danneggiare tutte le attività economiche del centro storico che vengono penalizzate rispetto ai centri commerciali perché sostanzialmente si rende molto difficile l'accesso del centro è inutile perché nel merito del provvedimento una domenica e chiudere semplicemente una piccola zona non serve assolutamente niente per il discorso dell'inquinamento delle polveri sottili Ecco, si potevano fare dei distingue anche per alcune categorie di utenti della strada? Quello è un altro aspetto molto curioso il fatto è che non sono state fatte delle deroghe per persone che ad esempio hanno auto elettriche o auto a metano o auto ibride che sicuramente non sono inquinanti Come si potrebbe fare per cercare di trovare una soluzione a questo problema secondo voi? Allora, noi della Lega Fano grazie al nostro gruppo consigliare abbiamo preparato una serie di proposte uno di questi sono ad esempio le agevolazioni per l'acquisto di nuove caldaie meno inquinanti, misura che è stata fatta altrove la pulizia delle strade con delle macchine apposite per diminuire il livello delle polveri sottili l'introduzione di parcheggi scampiatori dotati quindi che abbiano la possibilità di essere collegati al centro storico con delle navette il miglioramento di tutti quelli che sono i percorsi ciclopedonali verso il centro storico e non ultimo la concertazione anche insieme all'altra città della zona, della costa di misure adatte a prevenire l'inquinamento e infine una cosa che può essere molto utile e che appunto può portare delle misure ad hoc e automatizzate è quello di stabilire dei livelli una specie di semaforo dell'inquinamento verde-giallo-rosso che introduca in maniera automatica delle misure di blocco qualora ce ne fosse bisogno E ancora lotta allo spaccio a Pesaro oggi il personale del reparto prevenzione crimine di Pescara durante un controllo in via Cardinal Massai ha notato un ragazzo di colore che stava cercando di nascondersi considerato l'atteggiamento sospetto gli agenti hanno deciso di controllarlo ma nemmeno il tempo di fermare il mezzo che il ragazzo risultato richiedente asilo si è dato alla fuga una volta raggiunto e bloccato anche grazie all'aiuto delle volanti della questura l'uomo ha iniziato a colpire con calce e pugni gli agenti che sono comunque riusciti a immobilizzarlo e condurlo negli uffici della questura dopo una perquisizione sono stati rinvenuti negli abiti e negli slip numerosi dosi preconfezionate di un vero e proprio campionario di stupefacenti la droga e la considerevole somma di denaro che deteneva frutto probabilmente dell'attività illecita sono state sequestrate e l'uomo è stato arrestato in attesa della convalida anche nelle Marche il servizio sanitario regionale è pronto a affrontare l'eventuale presenza di casi sospetti di infezione da coronavirus a macerata sono già state studiate le condizioni di salute di due persone recentemente rientrate dalla Cina che hanno manifestato sintomi e respiratori meritevoli di approfondimento al momento nessuno di questi rientra nella definizione di caso sospetto secondo le indicazioni che il Ministero della Salute ha recentemente emanato ed ora passiamo al botte risposta che c'è stato tra gli ambientalisti ed Ase e Teste Pià dopo la strigliata arrivata dalla Regione sulle modalità con le quali sono stati potati gli alberi nella città di Fano il servizio di Francesco Salvago dagli ultimi interventi di potatura degli alberi effettuati da Aset in diverse zone della città tra cui via Papiria viale 12 settembre e gli arbusti presenti nei pressi della passeggiata dell'Isippo è intervenuta l'associazione ambientalista Lupus in Fabula in quanto si è interrogata sulla logica dei tagli effettuati dal personale addetto per la gestione del verde urbano che in alcuni casi hanno lasciato solo le branche primarie della lunghezza di pochi centimetri spogliando quasi del tutto gli alberi dalle foglie Riteniamo che non siano rispettate le normali regole di potatura che sono disciplinate anche dallo schema di regolamento regionale che il Comune di Fano avrebbe dovuto adottare già dal 2016 ma che però non ha adottato ma questo non significa che chi opera nel verde non si debba attenere a questo regolamento Reginelli dice che rispetta quelle linee guida ma lo inviterà a guardare a pagina 41 delle linee guida per capire che sta sbagliando effettivamente il modo in cui ASET ma anche altre ditte che operano per conto di ASET nella potatura delle alberi d'atto fusto stanno operando tra una buona potatura e una cattiva potatura c'è un po' di differenza noi diciamo che un albero in linea di massima va potato solo quando serve perché per l'albero è sempre un grosso stress questo comporta la riduzione della sua capacità vitali anche della metà già ampiamente compromesse dal dovere diciamo cresce in un ambito urbano che è poco favorevole quindi una pianta potata male richiede anche un impiego economico di soldi da parte dell'amministrazione ancora più ampio perché occorrerà potarla di nuovo più frequentemente l'associazione chiede un incontro congiunto con l'azienda pubblica e comuni di Fano per trattare non solo il tema delle potature ma anche la programmazione futura sulla questione intervenuta ASET ribadendo ai nostri microfoni che gli interventi di potatura sono effettuati sulla base delle linee guida per la gestione del verde urbano diramato nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente sono trattati come devono essere trattati noi seguiamo le norme e seguiamo i regolamenti che ci sono poi sui regolamenti che non ci sono non abbiamo nessuna intenzione di seguirli finché non vengono in qualche modo acquisiti dall'ordinamento non abbiamo avuto nessuna stregliata perché nessuno ci ha mai detto che cioè le autorità competenti ai controlli che quello che facciamo lo facciamo male e poi sul discorso della formazione non aspettiamo certo le associazioni che ci devono dire come formiamo i nostri collaboratori il Comune di Fanno e l'Ambito Sociale 6 hanno presentato un nuovo progetto Comunità Solidale che ha l'obiettivo di aiutare le persone senza fissa dimora fino ad ora parlando di accoglienza e supporto ai meno fortunati e marginati e senza tetto i singoli operatori del cosiddetto terzo settore avevano messo in campo le proprie risorse i servizi che riuscivano ad esprimere con le persone e i volontari di cui disponevano creando un'offerta a ciò che poteva essere la domanda o la richiesta di chi si rivolgeva a queste strutture ora però capofila il Comune di Fanno assieme all'Ambito Territoriale 6 prende vita un nuovo progetto mirato all'inclusione delle persone senza fissa dimora che però ribalta per la prima volta la prospettiva ovvero mettendo al centro la persona e la sua esigenza a cui la rete poi darà assistenza creando una risposta altro concetto contenuto in questo progetto è quello che se la montagna non va da Maometto allora Maometto va alla montagna pertanto sarà compito degli operatori andare a intercettare anche persone che per diverse ragioni di tipo morale o emotivo non si rivolgono direttamente agli sportelli dei servizi sociali o della Caritas o delle mense per chiedere aiuto restando così ancora più ai margini della società le direttrici sulle quali si muoverà a questo progetto sono attivazione di un numero dedicato non ancora attivo però è in fase di strutturazione attivazione di un servizio di pronto intervento sociale fatto dagli operatori sul territorio pronti a intervenire H24 nelle situazioni di maggior emergenza o a chiamata e la distribuzione di beni materiali un progetto che integra quello che già il pubblico sta facendo quando si parla e noi parliamo negli ultimi tempi spesso di welfare di comunità questo è un esempio concreto cioè integrare il pubblico i servizi pubblici dei servizi sociali che il comune la regione mette in campo con quello che fa il privato sociale che già facevano ma in questo modo entrano in sinergia e si danno ulteriori servizi e adesso parliamo di carnevale in particolare del Gran Galà in programma l'8 febbraio con cena musica e concorrenti speciali Vamos è la fiesta del carneval alla palazzina Sabatelli diciamo che è tutto pronto eh diciamo quasi ci stiamo attrezzando stiamo facendo delle prove sai per la corrida mi deve ancora arrivare il toro ne abbiamo provato uno finto ma adesso arriverà quello vero sì sabato 8 febbraio sarà la prima grande festa di carnevale faremo una corrida una vera corrida non proprio con dei delettanti ma delle persone che sanno cantare ballare raccontare le barzellette poi ragazzi ci sarà anche il balletto del pubblico grazie a Mattia Diamantini e Giuseppe lo chef Michele Renga della palazzina non vi dico che nomi mamma ha spedito non ci ho capito niente cosa ci darà da mangiare ma sicuramente a tema spagnolo che conosciamo bene tutto ma la specialità è sicuramente nel termine della cena non ci sarà la lotteria ma ci saranno dei premi meravigliosi a sorpresa il tema è libero quindi non dovete vestirvi per forza da torrero o da spagnolo mentre la scenografia e l'ambientazione sarà appunto dedicata alla Spagna e poi chi verrà e sarà con noi scoprirà il perché per prenotare telefonate come fate sempre a me a Mario a Nino a Leo e compagnia a Rociano insieme se non vi ricordate i numeri di telefono telefonate anche qui a Fano TV che ve lo daranno mi raccomando vestitevi bene perché ci saranno anche le telecamere di Fano TV mi raccomando vi aspetto tutti l'8 febbraio Palazzina Sabatelli dalle ore 20 in poi musica balli all'infinito con chi? con Atos Donini Silvia Cecconi dei Balaonda che sono sicuramente una garanzia e da questa sera con il nostro inviato Filippo Pucci iniziamo un viaggio un viaggio alla scoperta dei giganti di Cartapesta che sfileranno lungo Viale Gramsci nelle tre domeniche dedicate alla Carnevale di Fano iniziamo con il carro intitolato è tutto nelle nostre mani c'è grande fermento tra i maestri carristi all'interno della fabbrica del Carnevale di Fano di Viale Piceni anche quest'anno parte il tour di Fano TV alla scoperta delle nuove realizzazioni che vedremo sfilare lungo Viale Gramsci il 9, 16 e 23 febbraio e chi meglio dell'associazione Gomma Piuma per caso attraverso l'idea del maestro d'arte Valeria Guerra tra cui autrice del bozzetto può trasmettere tutto questo noi siamo andati ad intervistarla e a chiedergli il significato del carro il titolo del carro è tutto nelle nostre mani appunto perché rappresenta due mani che sono l'umanità le nostre mani che hanno rovinato il mondo con l'inquinamento tramite il petrolio tramite le fabbriche tramite la terra arida e comunque si vuole essere un messaggio di speranza perché sempre con le nostre mani possiamo dare un segno di speranza a questa terra e migliorarla con energie alternative infatti abbiamo rappresentato delle paleoliche e i fiori che rappresentano la fioritura comunque del pianeta e adesso apriamo il nostro album di fano tv perché questa sera facciamo gli auguri ai coniugi Renato Temellini e Diana Druda che festeggiano i 60 anni di matrimonio auguri da parte di tutti i familiari e ovviamente dalla redazione di fano tv vi ricordo che lunedì sera si rinnova l'appuntamento con il primo cittadino ospite della puntata il sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dellonti potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio anche con l'applicazione di whatsapp nel numero dedicato alle vostre segnalazioni tra poco invece trasmetteremo un approfondimento che riguarda questo blocco del traffico previsto a fano per due domeniche e di cui abbiamo sentito un'anteprima nel corso del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di fano tv arrivederci a presto a presto Grazie a tutti.